Bella ragazzi, bentornati qui sul canale di Prana, se siamo noi con una nuova partita, mamma mia, tutto il Gemi Tights, io alla l'outro del Zamp proprio Il prossimo impressione è Christian Team, lo vediamo, Ole Hernandez C'ha messo Rodriguez in prestito Ha messo Rodriguez in prestito, quello che comunque ha fatto una cosa buona Noi abbiamo ancora il Robben di tanto tempo fa che non utilizziamo più, quindi C'è zero contro, è finito? No, no, non è finito, ancora due partite, c'è abbiamo Robben Allora perché non lo mettiamo? Perché non fa intesa e fa cagare Staci, forti Eroben Eroben Vai Subito tu, salimo in tutti muy buon como no 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 cazzo modè che cazzo fai? no 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 me no stop cosa uso zero passare non ho fatto un palonito questo basso da rio va beh partiamo con l'handicap con il critto l'amorà che non scivola l 21 porti從 later usino come cazzo fanno un piano di testa che ha 8 metri e 20 bello bello in mezzo guarda in mezzo che dubbia da dovevo stupire stoppa no bello no che carino non può che sia un fallo così ah che noi spero porca puttana porca valerio guarda sta fanno fatto tutto il campo fatto tutto il campo ma chi è? eh rodriguez tu però c'è è illegale vabbè 3 a 0 si rimonta dai si no ma soprattutto se ti ricordi punizioni così capito ma basta il metto questo fa come gli pare c'è nel segredo qualcuno lo so c'è rodriguez che gli fanno solo tutta la squadra ma fanculo oh 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 no una fissa no vabbè dai così no però guarda qua sotto bello 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 e che culo però buce di culo bello cazzo abito di merda ma gli riescono tutti i passaggi incredibili oh ah vabbè ah questi vabbè ah questi vabbè questi vabbè capiti no no pure fuori gioco no ma perchè se levano una volta che li deselezioni se dovrebbero levare oh fa culo va sta di cazzo continua a passarla va ma tu ce la faremo comunque no però come ce la faremo cazzo ecco questo guarda che ci ha c'è no vabbè come cazzo ha fatto a pialla lui guarda questo è sempre del pallone non è serenale 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 se mani a posti con vinceremo magia moda muore barcellona è diventato crisi d'identità questo vaffanculo gli altri tuoi vabbè come fa a sapere che vado giù dai non è possibile pure questo dai vai partimo costazione dai guarda muoviglia pure questo video affanculo ha pure presa porca puttana oh dai 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 ma cazzo la sopia guanna via quel nano ma che ne sa no vabbè dai ma perchè ci ha arrivato non ci fosse una volta che ci sono uscita la palla mannaccia la palla non a te bambè vabbè per amici non si può pensare sempre valore di spazio se neanche il portiere la mona lavoro proprio erano Questa partita è veramente incredibile Ha meritato da lui, dai, c'è niente da fare E' stato bravo, morisse oggi Noi ci becchiamo sempre come sempre Sempre come sempre Guarda Rodriguez, ma come bello Cioè, Rodriguez è un'altra cosa Comunque, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video Non mollate i vecchi trapani perché possono vincere anche altre partite E le vinceremo Siamo così, ma noi ce la faremo Ce la famo Dai, ci vediamo alla prossima Bella